Senti, ma hai detto, orchestra meravigliosa, scenografie fantastiche, un colossale eccetera, non ti sa, non c'è niente? Ma sì, effettivamente è un po' a votino questo studio. Sarebbe piaciuto un balletto, coreografie, luci, fiori, tanti fiori, invece qui non c'è niente. A me non mi dispiace mica questa cosa, mi sembra più vero, più autentico, è molto meglio così. Senti, che cosa mi fai sentire, cosa mi canti? Ma, cosa si può fare in uno special, secondo te? Non lo so, sei tu che lo devi fare. Ma io ti dirò una cosa, per me uno special è un po' come un album, un 33 giri, ti spiego, tu sei un po' al di fuori. Mentre in un singolo, 45 giri, si fa la canzone più o meno commerciale, in un album ci si sbizzarrisce, si fanno le cose che ci piacciono. Si sentono dei pezzi insoliti. Sì, le cose che piacciono a noi. A me, per esempio, piacerebbe fare delle cose come queste. Se sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti. Come. A me, per esempio, si sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti. A me, per esempio, si sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti. A me, per esempio, se sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti. A me, per esempio, se sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti. A me, per esempio, se sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti, se sentono dei pezzi insoliti.